Due nuovi ingressi, come ne esce raggiunta l'esperienza politica di questa amministrazione? Noi ci auguriamo che questo sia un consolidamento e un rafforzamento dell'azione amministrativa e politica, però ci tengo a dire che per la prima volta non c'è un giudizio di disvalore o di criticità rispetto agli assessori uscenti, è una valutazione in questo momento necessaria perché la Giunta ha bisogno di un rafforzamento politico e un consolidamento dell'azione amministrativa. Il progetto Napoli cresce ed è una bella notizia che in tanti vogliono dare un contributo. Ho anche ridistribuito le deleghe in maniera più articolata, ho anche dato a due donne che stimo particolarmente e due deleghe che mi sono trattenuto, a Simona Marino le pari opportunità e a Daniela Villani il mare, quattro donne che entrano, quindi credo che sia un passaggio importante e poi saranno i fatti a dimostrare se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Panini un po' sovraccaricato, l'ha detto anche lei in conferenza stampa, quindi si pensa magari a riequilibrare un po'? Sì vediamo, Enrico Panini insieme a noi sta facendo un ottimo lavoro, ha una delega che è molto impegnativa perché purtroppo gli assessori rispetto alle materie di un'amministrazione sono pochi ed è giusto fare delle scelte in cui qualcuno può essere un po' più sovraccaricato rispetto ad altri. Vedremo nelle prossime settimane se fare qualche modifica, ma per ora io sono assolutamente soddisfatto delle deleghe che sono assolutamente certo che Panini saprà reggere perché la vera novità è il bilancio nella sua delega che è la materia più delicata e oggi perché sono tranquillo perché abbiamo un'articolazione tecnica del comune di altissimo livello, quindi Panini con le sue competenze e le sue capacità può dare una lettura più politica del bilancio, in questo momento noi abbiamo bisogno di un passaggio politico di rafforzamento altrimenti non possiamo andare, dopo sei anni di governo della città senza soldi dobbiamo provare a mettere in campo qualche azione diversa per migliorare la situazione economico-finanziare. Si rafforzano i merdi, si rafforzano i riformisti, c'è anche chi è scontento con l'uscita della città di Lebro? Sì, quella è una ferita politica incomprensibile perché abbiamo condiviso sino a loro tutto, io posso comprendere l'amarezza, posso comprendere però non quello di allontanarsi da un progetto politico, come avete visto il sindaco deve coniugare l'azione amministrativa di cui è responsabile perché è eletto direttamente dal popolo, una giunta che funziona bene con l'esigenza politica di mettere in cambio anche delle mutazioni perché siamo una coalizione. Poi non c'è stata una scelta di uno piuttosto che di un altro, questo lo vorrei sottolineare, noi abbiamo una persona che è espressione sicuramente di un movimento e di un partito, che è Maria D'Ambroso che è stata indicata dai Verdi, Alessandra Sardu l'ha detto anche lei nella sua presentazione, è espressione della società civile, una donna impegnata, viene comunque dall'area politica che ha sostenuto il sindaco perché poi noi alla fine siamo un movimento politico fatto non di una somma di partiti ma di tante persone ed esperienze aree che sono confluite in due liste civiche che hanno stravinto le elezioni, cioè Dema e De Magistris sindaco. Quindi da questo punto di vista io credo che è una coalizione equilibrata. Mi auguro che con la città di Lebro e Solombrino si possa recuperare, anche perché tutto si può dire, tranne che l'area anche che rappresenta Davide Lebro non abbia avuto in questi anni una sua adeguata rappresentatività e poi una cosa che ho dimenticato di dire in conferenza e la dico adesso, anche le scelte che farò la settimana prossima sulle società partecipate tengono proprio conto di come noi siamo in questa esperienza politica, cioè andiamo a guardare alle esperienze, alle professionalità, alle competenze in città. Tanto è vero che le nomine che farò da lunedì a giovedì su ANM, ABC, Mostra d'Oltremare e Holding non saranno espressioni né di partiti né di aree politiche né perché bisogna riequilibrare qualche rapporto di forza all'interno della coalizione. Ci sono stati bandi all'interno del quale io sceglierò, consultandomi con la nostra squadra, le persone che reputo più idonee a ricoprire quelle cariche. Quindi anche questo, chiamiamolo rimpasto, che è un termine a me non piace, va sì nell'allargamento della presenza nel governo della città della coalizione, ma senza mai perdere i tratti dell'assoluta novità della nostra esperienza. Insomma su 12 rappresentanti di giunta, compresi il sindaco, noi abbiamo due esponenti di partito che sono la sinistra rappresentata nella nostra esperienza di coalizione e i Verdi. Quindi credo che si conferma appena, anzi si consolida l'esperienza autonoma della città di Napoli.